Ehi! Oh! Corri e salta dietro un pallone, figlio il rete non andrà! Bentornati fratelli di Tuberanza, siamo di nuovo su Inazuma Eleven Strikers! Ve lo dico prima di iniziare, per il prossimo video qui su Inazuma, 1500 pollicioni all'insù! Tanto li superate sempre e quindi non ci sarà nessun problema, se non il fatto che inizierete a chiedermi sempre più video, ma questo è tutto normale! Quale squadra sfideremo oggi? Per la gioia di tutti, oggi andremo contro la squadra femminile! Quelli che mi vogliono bene saranno contentissimi, ma quelli che mi vogliono più bene staranno già pensando Oh no! Tube, non puoi battere la squadra femminile oggi! Perché la sfidi? Ebbene, perché ho saputo che a qualcuno, tra voi, piace quando mi incazzo! Quindi voi volete vedermi incazzato, giusto? No, ditemi se non è così! Perché secondo me è così! Lo avete scritto voi! Quindi oggi squadra femminile! Non la batteremo! Ma se la batteremo ragazzi, qua dentro... La vedete questa stanza com'è bella pulita? Bene, la distruggo! Ok? Squadra femminile signori, livello 3! Inizi la partita, yes! Allora, questa è la formazione titolare! Ok? Vediamo un attimo di utilizzare qualche oggetto, regà, perché altrimenti non le battiamo Bevana energetica pregara, migliore l'abilità di presa Ok? Io questa la utilizzerei su lui Uh, la porta ad esse Sì, 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 sì Madò! È un mucchino fermo quello! Portiere pompato, giocatori in campo, si inizia contro la squadra femminile Go! Ed ecco il calcio d'inizio, signori miei Un attimo che metto Un... Una bomba No, mi sa che c'ho Jude che sta un po' giù, eh Vai! Però attenzione perché c'è... No, regà, ma la maglietta loro è quasi uguale alla mia Ok Vai, andiamo, andiamo, andiamo Ovviamente, regà, Stonewall è potenziato, eh Metti seduta Ah, eccomi Mia cara, mi presento davanti alle tue poppe Sci-a tripla Mamma mia ragazzi, inizia subito Stonewall Che è come sempre migliore in campo, secondo me Insuperabile Vediamo un po' che cosa succede Sì, 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 sì Stonewall Grandi, ragazzi, grandi Grandi, vantaggio, 1-0 Non mi interessa di prendere la medaglia a platino, eh Ve lo dico subito Olé Giocala dietro, giocala dietro, bravi Vai, 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 vai Uh, bravissimi No, porca zozza Tiro della cometa? What the fuck? Allora, io ho la special e non voglio rischiarmela Ok? Vai lo hacker Bravo lo hacker Porca zozza Aroma maliante Questa è quella che ci toglie le mutandine Le fa odorare e poi Ok Xavier al tiro signori Dove siete raga? Eccomi Mamma mia signori Mo che sborda Pum Pam Pam Fuoco Ma come fa? La para con uno Ah perché sa Sa benissimo di non poterla Parare Xavier Grandi ragazzi Grandi 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 Numeri 1 9 minuti 2 a 0 per tube Grandi Questo è per voi Che pensavate Che non potessi vincere Forza Bravo tira Bravo Stonewall C'era il tiro già Vediamo un po' Uh 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 Mamma mia Metti seduta e zitta No Sunwall Sunwall vieni Vai 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 Adesso gli sparo un'altra scia tripla in fronte Nooo Perché vi siete staccati Maledetti Bastardi Ok lui il tiro non ce l'ha nemmeno Ma lui si Eh vabbè Adesso questa è un'altra Che si toglie le mutandine Eh Immaginavo Non volevo tirare Regà perché aspettavo destra Ma Non è arrivato Oh Perché mi steppia per culo Forza Forza Si Forza Si Forza Partita Incandescente Vai vai Prendetele No 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 Niente tiri mia cara Calcio delle terre Regà c'è una tensione addosso incredibile La difesa è impeccabile Sì Gliel'ho passata Faccia 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 Nooo Ma è quello Ma volevi Oh questa mi ha rotto proprio le palle Un colpo veramente Vabbè la paro con due dai E' un tiro di livello 1 Lo hacker Dai Dovremmo farcela Su Hai la presa di tipo S Eh si Ce l'abbiamo fatta Il portiere l'ha parata Ok Mo provate a non venirmi vicino Vi apro la madre Ok I quadri sembrano in ottima forma Porca troia Porca troia Porca porca Eh Su tua mamma Ce la Ce la di ghiaccio La difesa è impenetrabile Parata il portiere è imbattibile Forza Il primo tempo è quasi finito Stonewall Sì Ok Ma porca di quella trota Trota maledetta Oh 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 No Come ho fatto a venire a prendere No Mamma mia Eh sto nulla Non c'è più il tiro Vai Sparo Eh raga Devo sparare Devo provare a fare un tiro E entrare nel 3 a 0 Folgore Stellare Stellare Vai La para con due Questa è matta Mamma mia Gide Axel Signori 3 a 0 A casa Mamma mia Incredibile Mamma mia Che partita Che partita Ma no No Mi Sei un idiota Ma perché questa Fai tiri da 1 Perché Questi mi vogliono stancare il portiere Ve lo dico io Non ho mai visto un tiro dal genere Ah c'ho pure la special Grande lo hacker Oh raga Gli oggetti per potenziare Sono Obbligatori Nelle partite Cioè non è che Cioè soprattutto Contro la squadra femminile E la ogre Sono obbligatori Infatti poi dovrò Riutilizzarli Ah no Volevo fare un'altra scia tripla Prima della fine Signori miei Siamo 3 a 0 Fine del primo tempo Possiamo Vincere E possiamo addirittura Prendere la platino Ok Dai Dai Forti Sempre forti Per ora i migliori in campo Xavier Stonewall E Boh io direi Xavier Stonewall E Lo hacker Lo hacker Sì 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 è lo hacker Siamo di nuovo in campo Per il secondo tempo Dunque Inizia il secondo tempo Xavier Ha già il tiro Mamma mia ragazzi No Rinuncio La scia tripla Ma tu Il tiro Non lo fai Mia cara Zozzetta La difesa è impenetrabile Oh no Madonna Mamma mia come se ne va lui Mamma mia sempre lui Proprio lui Solo lui Destra Destra e seal Entrano in aria Al limite Sparano Raggio Ombra E in arrivo sul binario 3 Il raggio ombra Che parerà sicuramente Ma non importa Non importa Non importa Ci sta Ci sta L'importante è Impensierire il portiere Oh questa è una bagascia Questa è una bambina bagascia Vuole fregarmi con i tiri da uno Bravo Diglielo Elettrica Domani segni Domani però Domani Domani Un altro giorno Si vedrà Allora avanziamo un po' raga Cerco Xavier Oh aspetta 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 Vedo Vedo un certo Stonewall Con il tiro Uh no Uh Che fighe Ma secondo me Basta che vi tiravate sulla maglietta Mi scansavo uguale Dove sei Stonewall Grande Sedute Seduta Vai No non me la prendi Zozzetta Arriva Shia Tripla Ragazzi queste mosse dovete farle anche voi mentre guardate il video Cioè Shia Tripla dovete urlarlo tutti Se no non segniamo eh Perciò Fatelo Nooo Come ho fatto Ok Guardate per quanto raga Folgore Stellare Bam Anche se vostra mamma vi sgrida Dite l'ha detto tuberanza Non vi preoccupate Tutto sarà perdonato Oh ma No questa che cazzo ha fatto Se c'è Sei svegliata mo Mamma mia Grandissimo Xavier Non ha più il tiro Vabbè adesso lo carichiamo Dai Ah lui ha la schivata merdosa Ok Si parte Si parte a razzo signori Chi lo ferma Chi lo ferma Uh arrivano Arrivano i miei compagni Arrivano Arrivano Sono qui No aspetta Ci siamo un attimo staccati eh Eccomi Mi ripresento in aria Siamo Xavier Jude E Sean Frost Bam Grande fuoco Boom In fronte adesso ti prendo Si 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 Insuperabile Si 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 Come no Insuperabilissima sarai Si Xavier Jude Show Frost Signori Secondo me In questa partita Migliore in campo Xavier Mamma mia Xavier Che bomba Questi fanno i tiri da uno Uh attenzione Si toglie le mutande E spara Guardate tutti i pezzi di mutanda Non me la rischio Non me la rischio Pur essendo un tiro di livello 2 Non sia mai Intanto Alta tensione Andate a casa Merdei Merdine Proprio Merdine Obs Ragazzi Che è stato utilissimo In questa partita Vediamo se riesce Oh ma che sei stupido Ancora Oh ragazzi Allora Questa bambina Mi ha veramente Scassato La minchia Veramente Una palla al piede Di livello 2 La potrei parare Secondo me Anche con una parata normale Però Gabbia elettrica Allora Parata il portiere Come sei messo Stonewall Dove sei? Stonewall Il calcio è troppo Un Si No aveva il tiro Stonewall No avevo anticipato la palla Bellissimo Occhio eh Che qui ce la rischiamo Tiro della cometa Ma non so se avete fatto caso Ragazzi I miei difensori Fino a ora Hanno caricato Una sola volta L'abilità difensiva Non capisco che cosa hanno Stanno fisicamente a pezzi Anche questa è parata Se volete potete Tornarvene a casa Con le mutandine sporche Di cacca Madonna che scena brutta Uuuu Sta arrivando destra Stava arrivando destra Si 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 Torna indietro Torna indietro Eh no Signore Signore Finisce Finisce 4 a 0 Per turbo Mamma mia Ragazzi Non pensavo Di vincerla Giuro Con tutto il cuore Lo giuro E invece Grazie a voi Che avete assistito E avete vissuto Questi tiri Combinati Ragazzi Abbiamo vinto Per ben 4 a 0 Alla faccia Di quelli Che volevano Vedermi arrabbiato Non ce la farete Mai Mai Anche se io vi voglio Un bene Dell'anima Ma dell'anima Proprio Incredibile Vediamo quanti Crediti Abbiamo guadagnato Vediamo Allora Qui vabbè Siamo saliti 3750 Cioè punti base 1500 Cioè questa squadra qui Dà un botto di punti Fantastico Questi tra l'altro Sono crediti che ci serviranno Contro la Ogre Perché adesso devo acquistare Un po' di integratori Per potenziare Un po' di oggetti Pre partita Per ridare Di nuovo La S Allo hacker Insomma Ci sono un po' di spese Da fare Avete vinto Una medaglia Congratulazioni Mamma mia ragazzi Pazzesco Il platino qui Adesso toccherà La ogre Prima o poi La sfideremo ragazzi Non vi preoccupate Allora Per oggi è tutto Non mi rimane che darvi L'appuntamento Tra 1500 Pollicioni all'insù Chissà Magari contro la ogre Questo lo vedremo Nel prossimo video Sempre E solo qui Sotto Beranza Ciao